Negativo il tampone sulla compagna del 64enne contagiato di Poppi, il secondo caso di coronavirus, nella retino dopo quello della 42enne di Perginella Terina. A darne notizia, tramite la propria pagina Facebook, è stato il primo cittadino di Bibbiena e coordinatore dell'ambito socio-sanitario del casentino, Filippo Bagnoli. Mi sono sentito più volte con il direttore del distretto sanitario e al momento, per fortuna, non ci sono novità. Confermo, prosegue, che il caso positivo casentinese non ha avuto contatti con persone del territorio dopo il suo rientro dal convegno di Bologna. Inoltre vorrei precisare che non ha figli che frequentano scuole, non è possibile dire il nome e chiedo a tutti il massimo rispetto per una tale situazione delicata. Non avendo avuto contatti, conclude, non c'è bisogno di farsi prendere paure. L'uomo avrebbe contratto il virus a Bologna durante un convegno al quale ha preso parte assieme alla compagna. Al ritorno i primi sintomi, da qui l'isolamento volontario. Il tampone fatto sulla donna al momento ha dato esito negativo. Dovranno comunque arrivare i risultati sulla seconda verifica. Resta dunque sotto strettissima osservazione. Entrambi sono ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Le condizioni non sarebbero preoccupanti.